Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare dell'etta cultura, d'eleganza e di arte. A questa classe, che io chiamerei arcadica, perché rese appunto il suo più alto splendore nell'amabile vita del diciottesimo secolo, appartenevano gli sperelli. L'urbanità, l'atticismo, l'amore delle delicatezze, la predilezione per gli studi insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata, erano nella casa degli sperelli qualità ereditarie. Il conte Andrea Sperelli, fieschi lugenta, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era, in verità, l'idea al tipo del giovin signore italiano nel diciannovesimo secolo, il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l'ultimo discendente di una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò fino a venti anni le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre, e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre, appunto, ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo dei pregiudizi, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere. Aveva una scienza profonda della vita voluttuaria, e insieme una certa inclinazione baironiana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente si era diviso dalla moglie, ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione di Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri, quanto inconspetto delle realtà umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura, ma anche dall'esperimento, e in lui la curiosità diveniva più acuta, come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé, poiché la grande forza sensitiva onde egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale, che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere, ed egli non si accorgeva che la sua vita era riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia, e che il circolo gli si restringeva sempre più dintorno, inesorabilmente, sebbene con lentezza. Il padre gli aveva dato tra le altre questa massima fondamentale. Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita di un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. Anche il padre ammoniva, bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebbrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola, a bere, non a beri. Anche diceva, il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto, occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criteri morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo cioè la cui potenza volitiva era debolissima. Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato, nell'animo di Andrea, il seme del sofisma. Il sofisma, diceva quell'incauto educatore, è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto sono nascoste inesauribili ricchezze. I greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I sofisti fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso. Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco in Andrea la menzogna, non tanto verso gli altri quanto verso se stesso, divenne un abito così aderente alla coscienza che gli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su se stesso. Il libero dominio. Dopo la morte immatura del padre, Andrea si trovò solo a ventun'anno, signore di una fortuna considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e dei suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze con un amante antico, ed egli venne a Roma per predilezione. Roma era il suo grande amore. Non la Roma dei Cesari, ma la Roma dei Papi. Non la Roma degli archi, delle terme, dei fori, ma la Roma delle ville, delle fontane, delle chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campovaccino per la Piazza di Spagna, l'Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe, la magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini, la treva assai più della arruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Carracci, come quello farnese. Una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella borghese. Una villa come quella di Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d'Oriente, il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo, componesse un incanto intorno a qualche suo superbo amore. In casa della Marchesa da Teleta, sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda che vorreste voi essere, egli aveva scritto «Principe romano». Giunto a Roma in sul finire di settembre del 1884, stabilì il suo home nel Palazzo Zuccari, alla Trinità dei Monti, su quel dilettoso tepidario cattolico, dove l'ombra dell'obelisco di Pio VI segna la fuga delle ore. Passò tutto il mese di ottobre fra le cure degli addobbi. Poi, quando le stanze furono ornate e pronte, ebbe nella nuova casa alcuni giorni di indicibile tristezza. Era un'estate di San Martino, una primavera dei morti grave e soave, in cui Roma adagiavasi tutta quanta d'oro, come una città dell'estremo Oriente, sotto un cielo quasi latteo, di afano, come i cieli che si specchiano nei mari australi. Quel languore dell'aria e della luce, ove tutte le cose parevano quasi perdere la loro realità e divenire immateriali, mettevano nel giovane una prostrazione infinita, un senso inesprimibile di scontento, di sconforto, di solitudine, di vacuità, di nostalgia. Il malessere vago proveniva forse anche dalla mutazione del clima, delle abitudini, degli usi. L'anima converte in fenomeni psichici le impressioni dell'organismo mal definite a quella guisa che il sogno trasforma, secondo la sua natura, gli incidenti del sonno. Certo, egli ora entrava in un novello stadio, avrebbe al fin trovato la donna e l'opera capaci di impadronirsi del suo cuore e di diventare il suo scopo.